Lodovico Maria Botti dell'azienda Vinicola Trebotti, siamo qua per cercare di capire come il Ministero ha agevolato con i vari fondi e bandi di concorso la tua attività e in che modo? Il Ministero ha dato la possibilità di partecipare a diversi progetti per la promozione di impienitoria giovanile in agricoltura, sia come ricerca e sperimentazione in collaborazione con gli istituti di ricerca di varie enti, e quindi abbiamo fatto dei progetti per la sostenibilità ambientale e l'impatto zero delle produzioni che hanno portato a grande successo all'azienda e siamo leader in Italia da questo punto di vista e per una piccola azienda come la nostra, 16 ettari, è un grande successo. In più, sempre con lo stesso tipo di ente, abbiamo sviluppato sia Vinexport 2012, abbiamo vinto premio come uno dei 12 migliori giovani ricoltori italiani che ci ha portato ad avere grande visibilità a livello nazionale e abbiamo partecipato a un bando e vinto un bando per la promozione dei paesi terzi con cui abbiamo fatto Biopac, Millesin Bio e Vine Italy, quindi un sostegno importante che è stato fondamentale per la nostra azienda. Perfetto, ti ringrazio molto.